Firenze, in questo nobile figlio riconosci il successore del magnifico Lorenzo e con serenità affidagli il tuo futuro. Grazie per la visione! Il scontiato è come una bestia! Giovanni, dopo le volte tutti si chiacchieranno a noi per alleggerci il signore di Vida e poi uccidere un mezzo. Sì, se non mi piaccio come un altro mezzo. Sì, tu! Lasciami stare, Lorenzo, non puoi diventare figlio di Vida. Non apprezzo della tua vita. Lasciami stare, lascia fare un mezzo. Ti prego! Oh, Giovanni! Non è stato, come dice questo, non è il tuo stesso sangue! È quello di Piero. Siamo la stessa famiglia, vuoi dannarti l'anima? Il mio sorrano ha già destinato a voi quella casa. Soltanto Piero de' Medici e pochi altri dovranno essere insidiati. Il resto capirà partita nel giro di una notte, una volta capito il nuovo stato di fatto. Conoscete la vostra gente, no? Sono Lorenzo de' Medici. Se sono ancora in vita, grazie al nome che ti portano, ma domani all'anno a troveranno quello che speravano per me. Morte, no? Finitela! Se soltanto potessi scrivere, forse. E farei scrivere in un'unica. Allora scrivete! Dice di sfinirvi i combattimenti contro la vostra ombra. Adesso basta! Ora il po' di nessuno non terrà più. A me l'amore non è un uomo. Non ho conosciuto nessuna donna come voi. Lo prenderà come un elogio. Eh, un elogio. Non ho conosciuto nessuna donna come voi. Non mi sfida di cuore. Non mi fiume, non mi fiume, non mi fiume. Dammi la mia! Dammi la mia! Dammi! Non fiume! Piero, presto! Piero! Non fiume! Presto! Anche se non la userete mai, impugnatela talvolta per sentire il gusto della libertà. Ciò ciò che c'è la città di una sforza in persona per rinunciare un'unica. Dammi si parla di un accordo con la Repubblica. Non è un accordo personale. In questo modo, la richiesta di aiuto può arrivare da ogni elemento del Consiglio. Non era quello che volete? No! Gli sforzo dovevano obbedire se io li chiamavano. Questo magnifichino a mia posizione rimurava nel Consiglio. Mi sospetto che il vostro doppio gioco serpeggiava il Consiglio. E quella lettera al conte di Valmoniato, al re di Sacco, al marchese di Valmoniato, e la richiesta di un esercito che marciasse su Firenze che sto strappando! Grazie a tutti!